Giovanni Manfredonia, programmatore informatico, ha scelto il giorno sbagliato per comprare un lampadario. Doppia lampa dall'entice più specchio. Oh! Sì? Siete il proprietario? Sì, mi dica. Il mio nome è Burdogge. Cos'è perché mi chiamano così? Non lo so, per le guance? Le guance? Perché che c'hanno le guance? Dicevo, mi chiamano Burdogge? Sì. Perché so uno che non molla mai la pre... Scusate, che sta succedendo? Vabbè, niente, sono ragazzi. Dicevo, mi chiamano Burdogge perché sono uno che non molla mai la pre... Sì, mi stanno distruggendo il locale. Devi lasciare questo locale. Non l'ho capito. Se no, te sfondiamo tutto. Eh, ma non la sento. Te sfondiamo tutto. Chiamo la polizia. Ma che chiama la polizia? Non la sento, scusate. Non mi sente perché questi fanno un casino. Ma questi stanno facendo un casino e non la sento. Allora, mi chiamano Burdogge? Allora, signor Burdogge? Allora, mi stanno a far confondere. Allora, se lei non lascia sto locale, e che cazzo?